Sì al dialogo, ma non a una logica del do ut des. Ma è la logica che lui conosce, è la logica della campagna acquisti, quello che sta facendo. Non è possibile, io ho ascoltato con grande attenzione il suo discorso alla direzione di ieri, a parte che mi ha citato sette volte, quindi probabilmente all'ossessione di chi gli fa ovviamente opposizione vera, e questo la dice lunga sullo suo spirito democratico, dovrebbe apprezzare chi gli fa opposizione vera, o vuole tutti asserviti, o vuole tutti iscritti al PD.